Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo me a me è un giocatore completo. Grazie a tutti. 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 No. Oh. 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 Grazie a tutti 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 Ma perché Non capisco Grazie a tutti 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 un pazzesco Grazie a tutti. 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 Devi fatturare. Sì, si è veramente ridicolo, Jordan. Tutti. Sì, si è ridotta. Fa tanto... Fa tanto... Non è anche io... Non è anche io... No, ma... No, ma... No, ma... Ma come fai a dire... Ma come fai a dire certe cose, Sam? Ma mi cadi così in basso? No, ma... No, ma... So, come cudiamo, ma... No, non mi conosci da Black Ops 2 Adesso qua copia le metri Oh, parla questa puttana Oh, parla questa puttana Ah, io non capisco un c***o Eh, l'hai pagato 25 euro e lo vuoi vendere a 100 No, vabbè Immaginate dire audio No, vabbè No, vabbè Sì, ma sono le basi queste No, vabbè Oh, vabbè Quando dice audio vuol dire che devi stare zitto Oh, vabbè 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 Io non mi ricordo Ma che c***o vuoi? Ma che c***o se mi ricordo quando hai fatto da me ricorda? a chi si fa venni sta male Tu, Jordan, sei la persona più cringe che abbia mai conosciuto. Ma secondo te un gentleman come me? Puta sulle pizze. Neanche più il rispetto esistente. Io adesso ho perso il rispetto. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Finchè come sei maleducato, Jordan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non mi ricordo che cazzo devo fare. Forse è così. Se sei maleducato, Jordan. Audio. Va a far culo, Jordan. Tell il tuo audio. Madonna santa. Sbagliata. Va a farlo. Questa. Ho fatto uno split di Cristo, cioè. Senti, Jordan, anche io sono in World Record Place. Cioè, non rompere i coglioni. Grazie. 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 It's my fault, Jordan. Grazie a tutti. 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 La prima metà della run l'ho fatto veramente che fa schifo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma perché non te ne vai affanculo? Te e tua madre? Io ho finito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.